Allora noi siamo qui, dopo sette anni ci ritroviamo, questa volta con un'altra associazione Amare Pulito di Galatone, il cui presidente Emanuele Zuccalano, caro amico ambientalista ci tiene insomma veramente all'ambiente. Lui non c'è oggi perché è a Roma, non poteva venire insomma, però ha mandato la sua squadra e veramente abbiamo fatto un lavoro veramente bellissimo. Allora io dedico, ringrazio innanzitutto l'associazione, ma devo ricordarmi per forza il mio pensiero vola ad Antonio Baldari perché lui l'ha difesa questa quercia da questa strada maledetta che li passa accanto e spero che questo sia da monito affinché insomma questa quercia rimanga sempre qui ecco, viva e verde, veggeti anche nei secoli dei secoli, amen, ecco una preghiera ecologista, va bene dai, è andata bene. Arrivederci a tutti quanti, grazie a tutti a tutti. A presto. A presto.